ciao a tutti ragazzi bentornati al canale vcg siamo qui siamo adesso c'è volai bagnani gianluca io ho fatto secondo posto io ho fatto quinto posto tutti e due con 6-1 io ho perso in finale l'ultima e abbiamo dato l'addio al mazzo del europeo abbiamo dato via all'addio alle terze carte del mazzo e niente abbiamo giocato questo per appunto per dagli addio ci sono 4 carte bannate su 5 abbiamo giocato passiamo al profile abbiamo giocato 3 blue 3 jet carota red vabbè standard abbiamo cambiato un po' la lista all'europeo per adattarla al formato abbiamo giocato un po' meno carte 45 3 swap e ronin pace all'anna sua delle spell smasher 3 starter è buon carcombo migliore carta del mazzo vabbè pace all'anima loro proprio questi ormai fanno poco vabbè vabbè porti purtivissimi poi riparto break abbiamo giocato 3 hunters questi ci seguiranno ancora per un po' sì questi qua è un pochino questi ho forti ancora 3 hunters grifone solo due riti per abbassare un po' no abbassare un po' il numero di carte faithful dragonback però abbiamo giocato foolish foolish come diciamo sesto rito perché giocavamo anche un tore un tore che poteva essere forte per per fare per fare text tender livello 2 poi non giocando gamma non ci serviva il tunnel livello 2 da calare poi come entrap giocavamo 13 entrap facciamo 3 ash mono ogre perché è scalza nel formato però è forte alcune volte te la rimbalzi no oltre di quello te la rimbalzi pure si te la puoi rimbalzare se parti con ash e ti rimbalzi questa si anche però principalmente per avere pure anche il secondo target di teleport extender 3 baler 3 nb lo assurdi e 3 permanz e 3 permanz questo era il mio inno va di extra extra ormai pure questo steve questo qua è uguale all'europeo 3 3 cosi 3 elfi 3 elfi 3 elfi dark fortissimo fibber che ci saluta selene archescod fortissimo fortissimo si pure io mi è servito a pulire 2 gigantic standard totali centauria downert zeus downert zeus per la combo e poi loro per la combo fibra pure questo pace all'anima sua un'altra volta eh hanno fatto loro fortissimo però va bene che dovevano fa era ora qua a fine dell'anno fa poi decide abbiamo giocato e le carte per gamma e driver perchè questa qua era l'entrap da aggiungere più impattata a mirror match e non la giocavamo dei main quindi almeno dei side ci andava con tutte le entrap e poi abbiamo deciso di giocare 3 shifter per tier eh con gamma brass per ottica pare e questa versione è ancora più forte perchè con Fibber con Fibber e Rito con Rito si Rito fa il macello quindi chiudi quasi sempre veramente forte chiudi sempre e poi come remual abbiamo giocato 3 cicloni reboot anche questa se n'ha nata e e e questa qua che ormai è limitata e poi e questa è limitata cioè praticamente è bannet.tech si chiama sto mazzo e abbiamo dato l'addio ehm però che è stato performante è stato io mai mi è scato mai mi è scato è come se stavano uguale ringraziamo gli sponsor ringraziamo gli sponsor il pianeta di Saiyan Norikashop Chavas che sta qua e e niente ci vediamo alla prossima propa ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie.